Che cos'è l'ipotensione ortostatica? Una sensazione di vertigini o nausea quando si modifica la posizione del corpo è nota come ipotensione ortostatica o ipotensione posturale. La condizione è causata da un improvviso calo della pressione sanguigna che induce una persona a sperimentare vertigini a breve termine. Sebbene non sia solitamente dannosa da sola, l'ipotensione cronica ortostatica può essere un segno di una condizione più grave e può richiedere cure mediche in casi gravi. Quando si è seduti o sdraiati, il sangue tende a raccogliersi nelle gambe, nei piedi e nelle regioni inferiori del corpo, drenando la parte superiore del suo tipico livello di flusso sanguigno. Se una persona si alza improvvisamente, la perdita di sangue nella parte superiore del corpo può diventare evidente, causando vertigini, vertigini o una sensazione di svenimento. Nei casi più gravi, questo può portare a blackout, vomito o visione offuscata. La ragione per cui l'ipotensione ortostatica non è sempre sperimentata è che il corpo tenta di proteggersi rapidamente dalla mancanza di sangue impiegando la vasocostrizione. Questo processo naturale fa circolare rapidamente il sangue attraverso il corpo, riportando la pressione sanguigna alla normalità e prevenendo qualsiasi sintomo di ipotensione ortostatica. Se un fattore secondario, come una malattia o un problema di sangue, rallenta il ritorno del sangue nella parte superiore del corpo, i sintomi possono presentarsi in forme lievi o gravi. Le cause dell'ipotensione ortostatica sono piuttosto varie. Problemi di stile di vita come nutrizione inadeguata, disidratazione o colpo di calore possono portare ad un temporaneo calo della pressione sanguigna e provocare capogiri quando si pone un problema. È anche più probabile che le persone anziane sperimentino la condizione in quanto il loro sistema di circolazione è naturalmente un po' rallentato. Alcuni farmaci possono anche portare a ipotensione ortostatica. Può essere un effetto collaterale comune dei farmaci per l'ipertensione, soprattutto se il farmaco viene assunto in grandi dosi. È stato dimostrato che molte condizioni mediche come il diabete, i problemi cardiaci e il morbo di Parkinson riducono la pressione sanguigna e rendono più comune l'ipotensione ortostatica. Anche le donne che hanno pertorito di recente e le persone che stanno riposando a letto sono considerate in qualche modo più a rischio di manifestare sintomi. Può anche essere un problema comune per le persone che soffrono di disturbi alimentari come l'anoressia e la bulimia. Se le vertigini o la nausea dovute alla permanente sono un evento costante o frequente, è necessario contattare un medico. Anche se relativamente innocuo da solo, l'ipotensione ortostatica può indicare che i pazienti con la condizione includono spesso il verme, lo stress test e il test della frequenza cardiaca. Se la pressione sanguigna è determinata ad essere troppo bassa per le normali funzioni, alcuni farmaci possono essere prescritti per trattare la condizione.